e non vedo più quelle due parole vedete che non sono stupidi sono stronzi andiamo avanti terzo pilastro una democrazia di per sé è una cosa estremamente delicata è un equilibrio delicato ogni cosa deve essere al posto suo per evitare uno sbilanciamento è una bilancia che invece di avere due piatti ne ha di più la famosa separazione dei poteri bene che cosa garantisce questo equilibrio la garantiscono in italia il presidente della repubblica e la corte costituzionale bene il presidente della repubblica secondo quello che c'è adesso viene eletto da 1040 persone circa che sono 630 deputati 315 senatori i senatori a vita che adesso sono 5 e i delegati regionali che lo eleggono in seduta comune dopo lo eleggeranno ancora in seduta comune senza i delegati regionali ma con la legge elettorale che c'è adesso quindi il partito di maggioranza avrà 340 voti lui avrà bisogno di del 60 per cento di quelli che voteranno per eleggersi il presidente della repubblica non della non di quelli che ci sono ma di quelli che voteranno quindi alla fine avendone già 340 non gliene servono più molti per scegliersi uno degli organi che tengono il bilanciamento della situazione quindi già il presidente della repubblica l'hai opzionato ma c'è la corte costituzionale che è fatta da 15 persone il presidente della repubblica poverino ne prende 5 su 15 altri 5 sono appannaggio del parlamento lottizzati con il sistema che delinea renzi sono 3 per la camera e 2 per il senato quindi 5 il presidente più 3 che ha scelto la mia maggioranza alla camera fa 8 su 15 posso ho potuto anche fare lo splendido e dire al senato ma sì due scegli lì tu che così faccio anche faccio anche bello mi faccio bello no te ne ho fatti scegliere due che me ne frega tanto ne controllo 8 su 15 ho già vinto e quindi dove sta questo bilanciamento dei poteri me lo sono mangiato chiaro no e quindi questo è il pilastro la perdita del bilanciamento democratico dopodiché che ci sia un'elezione chi se ne frega la democrazia non è andare fare un voo una x su una scheda lo sapete in corea del nord repubblica democratica popolare di corea c'è un parlamento eletto con una scheda con tanto di x è una democrazia la corea del nord no però si vota quindi non è democrazia solo perché c'è lo scheletro democratico perché ho conservato una camera o anche due e che si vota è il contenuto se io ho tolto il contenuto e mi è rimasta la scatola che me ne faccio della scatola portatevi a casa andate a comprare i cioccolatini lasciate i cioccolatini al supermercato portate a casa la scatola e vedete un po se è divertente mangiarvi la scatola eppure la scatola l'ho portata a casa poi è stato detto la clausola di supremazia è il superpotere dello stato qualunque determinazione di una regione può essere superata dallo stato centrale esempio voglio fare una centrale a carbone qua dietro la regione dice no quello che vuole fare la centrale va a piangere al ministero il ministero dice ci penso io 30 giorni e ti autorizzo e la regione e la regione si attacca ma c'è di peggio siccome lo schema è disegnato così è un tutti contro tutti cioè se decidessero di fare il deposito di scorie nucleari italiano in Liguria la Liguria direbbe no le altre regioni si accanirebbero contro la Liguria direbbe bastardi non lo volete dovete prendervelo quindi sarebbero tutte le regioni equalizzate contro una che è la disgregazione dello stato perché le regioni non sono state costruite per essere litigiose ma per dividersi i compiti in base alla territorialità ogni regione ha una peculiarità e quindi è giusto che decida qualche cosa a casa sua tu non puoi dire sei padrone a casa tua finché non arriva lo stato a dire che lui è più forte comanda lui vi torna no come ragionamento benissimo adesso brevemente e questo è un appello a quelli che magari vorrebbero votare sì io vorrei dirvi riservatevi la possibilità di decidere con la vostra testa perché ho sentito persone che hanno detto io voto sì perché l'ha detto Renzi oppure io voto sì perché cambiare è meglio di niente qualcuno stamattina me l'ha già sentito dire ma lo ridico pensate a quando andate in pizzeria e decidete di prendere un'altra pizza voi guardate esattamente quello che c'è dentro magari questionate se nell'impasto ci sia lo strutto non ci sia lo soprattutto cioè nel scegliere la pizza mettete attenzione bene nel momento in cui tu devi decidere della forma dello stato voti perché te l'ha detto qualcun altro cioè metti più attenzione nella scelta di una pizza che non nella scelta della tua costituzione io dico di no o allo stesso modo al mattino quando scegliete i vestiti da mettere li scegliete con criterio o a occhi chiusi li scegliete con criterio e invece sulla costituzione no cioè scegliamo quello che ci ha detto qualcuno di scegliere no io dico di no ultima cosa chi è che dice che dovremmo votare sì perché magari non è chiaro il perché però il proponente magari un dubbio te lo fa venire chi l'ha detto di votare sì ha cominciato jp morgan con la famosa lettera del 2013 basta leggerla poi è arrivata a jp morgan è quello che ci ha detto a noi alla grecia come truccare il bilancio dello stato per poter soddisfare i parametri di maastricht ed entrare nell'unione europea sono stati loro abbiamo fatto i famosi contratti derivati con loro jp morgan poi è arrivata goldman sachs goldman sachs è quella che ci ha dato mario draghi presidente della bce e quella che ci ha dato barroso ex presidente della commissione europea che tornerà in goldman sachs quelli che hanno detto se non vince il sì il salvataggio del monte dei paschi di sena è a rischio e io dico che questi si beccano una denuncia per agiotaggio perché questa è turbativa del mercato azionario sapete perché dicono di sì perché vogliono entrare nel fondo atlante 2 quello che dovrebbe salvare il monte dei paschi per la quota parte garantita integralmente dallo stato certo che a fare affari così siamo capaci tutti eh io metto i miei soldi garantiti dallo stato chi altro ha detto vota sì confindustria il fondo monetario internazionale poi ancora chi è che l'ha detto in pregilo quelli del ponte sullo stretto di messina dopo che gli hanno detto ti faccio il ponte ha detto votate sì confagricoltura l'ha detto l'ha detto il financial times l'ha detto l'ambasciatore americano tutta gente notoriamente che fa gli interessi dei cittadini italiani beh io dico una cosa quando il fruttivendolo dove vado a comprare la frutta oppure quello che mi controlla il biglietto sul pulmano sul treno mi diranno vota sì allora forse io lo ascolterò ma finché me lo dirà della gente che gli interessi dei cittadini non li ha fatti mai ma ha fatto sempre i propri io un dubbio ce l'avrò sempre l'appello finale è il seguente perché per voi che santi che siete rimasti a prendere l'acqua oggi avete sentito delle cose uno controllate quello che vi abbiamo detto due se vi torna non tenetevelo per voi cioè raccontatelo anche agli altri di guarda io sono ho sentito queste cose ho controllato sono anche vere quindi permettimi di condividere con te quello che ho imparato perché l'unica possibilità che abbiamo per non farci fregare da questa gente è crescere tutti assieme nella conoscenza perché se questa revisione costituzionale ha ancora un sì che vale circa il 45 per cento è solo perché battono sulla nostra ignoranza solo per questo perché se noi fossimo consapevoli di come sono le cose il no avrebbe già vinto con il cento per cento dei voti questa è una cosa certa quindi l'appello è questo diffondete la conoscenza se tutto questo vi ha convinto se invece fate parte di quella minoranza alla quale conviene votare sì che vi devo dire non voglio convincervi cioè dovete essere voi a convincere voi stessi o a essere convinti l'appello è questo io vi ringrazio ancora per essere stati qua sotto l'acqua e e che vinca il no io dico no grande carlo anche sotto la pioggia e tutti i capelli fantastico carlo e sapete bene che noi ci autofinanziamo quindi vi ricordo a tutti che c'è il banchetto con le nostre fantastiche felpe e magliette io dico no diciamo no a questa schiforma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti